Truffe bancarie sempre più pesaresi cadono nella rete. Incendio a Monbaroccio, fiamme devastano un capannone. Studenti e bar uniti nel prevenire gli incidenti stradali. A 94 anni Carlo Pagnini premiato col sigillo da temere. I tal service da ratti verso le Final Four di Napoli. Telegiornale di giovedì 23 marzo. Buona serata, ben ritrovati su Rostini TV in questo nostro primo approfondimento di informazione. Parliamo di truffe perché sono sempre di più i pesaresi che cadono nella rete dei raggiri bancari alimentati da hacker che agiscono ad esempio tramite mail o sms falsi. Un fenomeno in crescita che ci viene illustrato dall'avvocato Florio Bisello, presidente nazionale dell'Associazione e consumatori Adusbef. Siamo con l'avvocato Florio Bisello, segretario nazionale di Adusbef, associazione dei consumatori sul cui tavolo arrivano diversi casi di phishing, di truffe online legate ai sistemi bancari. Qual è la portata del fenomeno anche nella nostra realtà locale? Il fenomeno è sempre più in crescita. Vi sono vari tipi di truffe. Il primo è il phishing. Il phishing come avviene? Tramite praticamente l'invio di un'email da parte dell'hacker al consumatore e praticamente un avviso in cui afferma che vi è un'intrusione sul conto corrente del consumatore stesso oppure addirittura dei tentativi di intrusione e pregano il consumatore di cliccare sul link. Naturalmente l'email che arriva è con lo stesso logo della banca, è perfettamente uguale a tutte le pagine delle banche. Che succede? Il consumatore una volta che ha cliccato sul link viene poi contattato, si apre un format, un modulo che praticamente spiega come compilarlo. Quindi il consumatore va a compilare il modulo in tutte le parti mancanti con i propri dati personali sensibili. Dopodiché invia il modulo e viene contattato dal truffatore, il cui praticamente poi dirà di dare i codici di accesso. Una volta che c'è stato questo il truffatore avrà una strada facilitata per poter entrare sul conto corrente del truffato e poter compiere in suo luogo tutte le operazioni. Capitati i casi in cui sono entrati nel conto corrente dell'assistito e hanno fatto diversi bonifici in varie banche italiane. Poi un altro fenomeno è il misching praticamente che avviene la stessa tipologia ma tramite sms ed è ancora più insidioso questo. Quindi una volta che arriva l'sms d'allerta anche inadvertitamente sovra pensiero il cliente va a cliccare sopra il link e la stessa cosa viene contattato poi da un operatore truffaldino che logicamente li farà accedere poi il che avrà accesso facile sempre ai conti del truffato. Quindi queste truffe stanno aumentando sempre di più e le figure che vengono purtroppo colpite vanno dal ragazzo giovane fino all'imprenditore fino alle persone di grande cultura, agli anziani. C'è però anche un esito spesso risolutivo si riesce comunque a recuperare il mal tolto? Sì certo. Secondo me è meglio fare un ricorso all'arbitro bancario finanziario anziché al tribunale perché un ricorso che costa molto di meno e molto veloce come tempistica nel giro quasi anche meno di un anno 8-9 mesi si raggiunge il risultato. La banca deve provare che il consumatore sia stato negligente e non il consumatore deve provare che non è stato negligente praticamente. Quindi in questi casi insomma spesso e volentieri hanno esito positivo i risultati. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di un incendio che è accaduto ieri sera a Monbaroccio dove per cause ancora da chiarire ha preso fuoco materiale di scarto posto all'esterno di una fabbrica di mobili specializzata in arredamenti per camere. Fiamme che hanno successivamente coinvolto una porzione interna dell'edificio. L'incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco di Pesaro intervenuti con due autobotti. Non ci sono state persone coinvolte nel rogo ma il capannone è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Ed ora la cronaca. Un 33enne romeno è stato arrestato questa mattina a Savona. L'uomo un pregiudicato è accusato di furti, rapine e ricettazione per reati commessi a Pesaro e la Spezia. Le indagini della polizia hanno permesso di rintracciarlo in un albergo del lungomare Savonese. L'uomo è stato condotto in carcere e a suo carico pende una pena di tre anni di reclusione per i reati commessi. Informare e formare per prevenire gli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga è questo l'obiettivo del progetto Be Responsible promosso dal comune di Pesaro e dalla polizia locale che ogni settimana sta coinvolgendo i vari istituti scolastici del territorio. Questa mattina il progetto ha fatto tappa all'istituto alberghiero Santa Marta per promuovere un nuovo drink analcolico con l'obiettivo di coinvolgere anche i bar della città. Informare, formare e prevenire gli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga. E questo è l'obiettivo di Be Responsible, il progetto finanziato con 287 mila euro dal Diportimento per le politiche antidroga del Consiglio dei Ministri promosso dal comune di Pesaro capofila della rete di istituzioni e associazioni che vi collaborano ovvero Prefettura, Questura, Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Università di Urbino e il Comitato di Pesaro della Croce Rossa. Un progetto che in questo mese di marzo è entrato nelle scuole con progetti di vario genere. Questa mattina Be Responsible è arrivato sui banchi del Santa Marta o per meglio dire è arrivato sul bancone del bar didattico dell'alberghiero dove in linea alla filosofia del progetto è stato ideato un cocktail analcolico da proporre nei weekend dei giovani cercando anche la collaborazione promozionale dei bar cittadini. Sono passati diversi anni dalle ultime campagne informative rispetto al problema dell'uso dell'abuso di alcol e sostanze quando ci si mette alla guida e abbiamo colto questa opportunità e da subito insieme a Croce Rossa, Università di Urbino abbiamo voluto dare un'impronta innovativa a questo progetto per cercare di stare un po' al passo con le nuove generazioni ed è un progetto che si basa molto sulla esperienza. Gli incontri che abbiamo avuto con gli studenti erano finalizzati a questo, hanno visto un docufilm su una vicenda in cui ha perso la vita un ragazzo investito da una persona che era in forte stato di ebbrezza e l'autore Luca Pagliari ha parlato con i ragazzi, sono intervenuti i familiari e gli amici di questo Francesco ed è stata una cosa molto forte che abbiamo visto che i ragazzi sono rimasti molto colpiti. Questa è un'altra iniziativa ancora, cerchiamo di andare, di non porci in una posizione come dire di cattedra rispetto a loro ma di fargli vivere un po' le situazioni. Questo progetto ha più fasi, oggi siamo già alla fase centrale che è quella della realizzazione appunto di un cocktail analcolico che possa accattivare i ragazzi e possa essere diciamo poi anche in futuro si spera realizzato dai vari bar, dai vari esercenti in modo tale da andare incontro poi anche ai ragazzi proponendo un'alternativa alle sostanze alcoliche che sia comunque di gradimento e che possa essere diciamo anche un messaggio, ecco che è il messaggio quello di divertirsi con la testa e evitare appunto l'abuso di sostanze alcoliche. Questo cocktail consiste in 4 centilitri di purea di fragola, 3 centilitri di succo di arancia e 2 centilitri di succo di lime fresco e un centilitro e mezzo di siroppo di zucchero per addolcire il tutto. Un medium drink da proporre quindi sia in orario pomeridiano che tarda serata, rinfrescante utilizzando ovviamente zero alcol. Il passo successivo sarà appunto un incontro con i volontari della Croce Rossa e in questa fase diciamo sfruttando anche la tecnologia, i visori che abbiamo in dotazione da una parte simuleremo quello che è il camminare o magari anche il guidare in stato di ebrezza quindi per far capire ai ragazzi quali sono gli effetti e dall'altra invece verrà simulato proprio un soccorso, la fase del soccorso appunto della Croce Rossa che si è trovata spesso a dover fare nel caso di incidenti dovuti all'abuso di alcol. Poi naturalmente c'è la parte della prevenzione come Polizia Locale insieme alla Polizia di Stato e Croce Rossa faremo dei posti di controllo complessi nelle serate insomma per prevenire appunto la guida in stato di ebrezza. Ed ora parliamo di lavoro. In questo mese di marzo cresce il numero dei contratti di lavoro che le imprese marchigiane hanno in programma di attivare 22% in più rispetto a un anno fa e 6% in più rispetto al mese scorso e quanto mostrano i dati pubblicati oggi dalla Camera di Commercio delle Marche che dicono come in questa primavera la previsione di entrate lavorative crescerà del 23% sfiorando la situazione pre-pandemia. Ad offrire lavoro saranno soprattutto il settore dei servizi e del turismo. Le professioni più richieste in regione risultano essere addetti nell'attività di ristorazione con 1370 entrate previste e addetti alle vendite con 800 nuove entrate. Le maggiori difficoltà di reperimento si riscontrano negli operai specializzati nel tessile e nella lavorazione di cuoio, pelli e calzature. Ieri ci siamo occupati della giornata mondiale dell'acqua ma anche oggi sono continuate delle iniziative che riguardano proprio questo argomento. Vediamo. Stiamo parlando il giorno dopo della giornata mondiale dell'acqua quindi sicuramente questa è un'occasione propizia per pubblicizzare questa iniziativa. La Croce Rossa anche se non sembra ma è impegnata in tantissimi settori tra cui anche quella della promozione delle buone pratiche ecologiche è uno degli obiettivi strategici che la Croce Rossa a livello nazionale si è data per i prossimi anni quindi come obiettivo a lungo termine. Noi qui nella nostra sede avevamo dei distributori di acqua con i bicchieri di plastica il classico boccione di plastica che ogni volta viene sostituito e abbiamo deciso in collaborazione con Marche Multiservizi e grazie soprattutto alla loro disponibilità e sensibilità in questo senso abbiamo deciso di cambiare e installare grazie a loro questo erogatore di acqua collegato alla rete pubblica e abbiamo consegnato e consegneremo nei prossimi giorni a tutti i nostri volontari e dipendenti queste borracce per poter bere da questo erogatore. Complimentiamo con la Croce Rossa e con il Comune di Pesaro per questa iniziativa che per noi è molto importante per cercare di sensibilizzare un po' a partire da tutti i comitati territoriali che possano seguire l'esempio del Comitato di Pesaro e utilizzare gli erogatori nelle proprie strutture per cui ci consente di sensibilizzare in maniera circoscritta i volontari della Croce Rossa ma questo vuol dire che tutte le aziende, tutti i cittadini debbano capire di più forse rispetto a quello che è l'abitudine che il consumo dell'acqua dell'acquedotto anche non filtrata come in questo caso da un erogatore è un'acqua buona, di qualità che è controllata da Marche Multiservizi in maniera puntuale attraverso il proprio laboratorio interno e questo non solo è un risparmio in termini economici per le famiglie ma soprattutto quello che noi puntiamo come anche mission aziendale quella della sostenibilità ambientale che rendicontiamo nel nostro bilancio di sostenibilità consente, come ormai è evidente a tutti, la riduzione della produzione di plastica e quindi di CO2 Alla soglia di 95 anni l'arte oratoria, teatrale e dialettale di Carlo Pagnini è stata premiata oggi nella prefettura di Pesaro con il conferimento del sigillo d'Ateneo da parte dell'Università di Urbino La Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha deciso di assegnare il prestigioso riconoscimento accademico, il sigillo d'Ateneo al nostro Carlo Pagnini e noi non potevamo naturalmente non essere presenti per raccontarvi questo straordinario evento questo straordinario momento nella vita di Carlo della sua famiglia di cui io faccio parte e della nostra città Al magnifico rettore Giorgio Calcagnini comunque chiediamo un approfondimento sulle motivazioni ma anche e soprattutto sul sentimento di questa mattinata una mattinata nella quale la commozione ha girato ma non era solo commozione era forse qualcosa di più Quello che circolava era quello che ci lascia la poesia una poesia in qualsiasi lingua perché anche mi è capitato di sentire poesie in lingue che non conosco ma chi le recita la capacità di trasmettere qualcosa riesce sempre ad arrivare all'anima, al cuore delle persone e oggi mi sembra che l'anima della poesia circolasse nella sala qui della prefettura ed è stato molto bello e come ho detto l'Ateneo deve secondo me aprirsi al di là degli ambiti puramente accademici della ricerca proprio perché ed è una delle missioni che in qualche modo il Ministero ci riconosce di come l'Università possa contribuire a formare quello che a me piace chiamare un capitale sociale di un territorio che si costituisce sia con la formazione, quindi con i corsi di studio sia con la ricerca ma anche con quella capacità di trasmettere al territorio anche quello che nasce all'interno dell'Università e penso che oggi Carlo Pagnini possa essere indicato come uno dei personaggi che nel territorio possa esprimere questo tipo di ruolo Come stai? Sono ancora frastornato, tornerò, tornerò qui Tornerai in te o tornerai qui? Tornerai in me, finché posso continuo a sognare Come ti senti, come stai, come è andata questa giornata? Sto benissimo, sto benissimo perché sono un pochino abituato al pubblico e sono abituato al pubblico, sono abituato alla gente che mi vuol bene non è tutto oro quello che luce però insomma in queste occasioni credo che ci sia molta verità di sentimenti E allora davvero tanti complimenti al nostro Carlo Pagnini e vi ricordiamo che potrete vedere l'intero racconto, l'intero speciale TV la prossima settimana, mercoledì 29 marzo, in prima serata alle 21.20 E parlare di Carlo Pagnini diventa un ponte naturale verso la giornata internazionale del teatro che si festeggia domenica 26 marzo ricorrenza che il Comune di Pesaro e Amat celebrano con un triplo appuntamento dedicato alla memoria di Dario Fò e Franca Rame Ad un anno dall'intesa fra Agenzia del Demagno, Ministero della Cultura e Comune di Pesaro per rifunzionalizzare Rocca Costanza in sede dell'Archivio di Stato e del Museo della Fondazione Dario Fò e Franca Rame ecco alcuni eventi culturali che vedono Pesaro, Amat e la stessa fondazione celebrare gli eclettici artisti di talento istrionico che hanno segnato la storia del teatro del secondo novecento nonché esempio di impegno civile e politico La valorizzazione di una giornata importante, quella internazionale del teatro proprio all'insegna della fondazione Fò e Franca Rame e quindi partono i primi appuntamenti di quello che già a tutti i livelli è una collaborazione in essere Primo appuntamento domenica 26 marzo alla Chiesa dell'Annunziata con lo Santo Iulare Francesco con Mario Pirovano Oggi lanciamo questo programma che abbiamo chiamato Insieme Vive il Teatro che inizierà il 26 marzo con uno spettacolo di Mario Pirovano che è lo Santo Iulare Francesco in occasione per ricordare il compleanno di mio nonno Dario che sarà il 24 marzo e poi ci vedremo il 27 marzo invece per questa chiacchiera, questa conversazione in cui lanceremo i programmi, i progetti che abbiamo in mente con il Comune di Pesaro dove si parlerà dell'importanza di fare per ricordare perché la memoria di Dario e Franca rimanga viva attraverso dei progetti che li continuino a portare tra la gente il 29 maggio che sono i dieci anni dalla scomparsa di Franca Valentina Lodovini porterà in scena tutta casa letto e chiesa e da questo evento proprio Vive il Teatro noi lanciamo come fondazione anche quello che è Un anno per Franca questo progetto che abbiamo lanciato perché non ci sembrava giusto ridurre il ricordo di Franca per i dieci anni della sua scomparsa a una giornata di commemorazione ma l'idea è stata proprio di lanciare un anno di eventi che possano continuare a ricordarla la vicinanza tra, forse non casuale probabilmente, tra la giornata mondiale del teatro e il compleanno di Dario in particolar modo ci ha dato da subito la spinta per immaginarsi qualcosa di importante che vorremmo fare crescere sempre di più dall'anno prossimo l'anno prossimo vorremmo che fosse una vera e propria settimana lunga diciamo un pride dei teatri della città e perché no della provincia vista la vocazione anche della Capitale 24 e le connessioni fra Pesaro Capitale della Cultura e la figura di Dario Fo proiettano già lo sguardo anche al 2026 diciamo del 2026 e saranno i cento anni di Dario Fo in particolar modo e capite che sarà una ricorrenza mondiale domani a partire dalle ore 16 il Museo Officine Benelli ospita Pesaro terra di motori e imprese titolo di una tavola rotonda organizzata da CNA di Pesaro Urbino nell'ambito del progetto regionale Poli legato al Brand Festival ospiti della CNA saranno istituzioni e vertici di Benelli Moto e altre imprese del settore motoristico per cogliere le tante opportunità di connessione fra il nostro territorio e il mondo delle due ruote un focus che diventerà poi uno speciale televisivo che vi trasmetteremo mercoledì 29 marzo alle ore 21.40 dalle moto alle bici quella del leggendario Marco Pantani alla cui memoria sabato alle ore 16 il comune di Carpegna intitolerà lo svalico di Monte Carpegna presso il monumento che ritrae l'immagine del pirata luogo che verrà rinominato Passo Marco Pantani alla presenza della famiglia del campione di ciclismo che proprio sui tornanti di Carpegna amava allenarsi a seguire alle ore 18 nell'auditorium comunale sarà presentata anche la prima edizione della Corsa Nazionale Ciclisti Under 23 che si terrà il 23 aprile con partenza da Cesenatico città natale di Pantani e arrivo poi a Carpegna la chiesa di Sant'Agostino di Pesaro accoglierà domenica 26 marzo alle ore 16 il coro di voci bianche Il Giardino delle Voci che si esibirà in un concerto organizzato con la collaborazione del Circolo degli Amici della Lirica per celebrare l'inizio della primavera il coro si esibirà in aree popolari della tradizione sudamericana ed ebraica e sarà diretto da Aldo Ciconofri e accompagnato al pianoforte da Manuel Manieri e alle percussioni da Giuseppe Poderi e continuiamo a parlare di questo fine settimana perché sabato 25 e domenica 26 marzo tornano per la 31esima edizione le giornate FAI di primavera che come ogni anno portano a scoprire piccoli gioielli del nostro territorio fra le tante proposte vi segnaliamo che a Pesaro le guide FAI porteranno questo weekend a scoprire il cantiere Rossini che col suo progetto industriale ha riqualificato l'area del porto e Palazzo Ciacchi di Confindustria che come vi abbiamo mostrato anche ieri nel nostro telegiornale da oggi viene arricchito da un percorso espositivo permanente dei musei civici e concludiamo il nostro telegiornale occupandoci di sport in particolare dell'Ital Service Calcio a 5 in partenza per le Final Four di Coppa Italia che si terranno a Napoli questo weekend un grande appuntamento che la società del presidente Lorenzo Pizza ha presentato oggi nel cortile della boutique Ratti uno dei principali sponsor del Calcio a 5 pesarese Nonostante una stagione con molti più affanni e problemi rispetto ai sorrisi e ai trionfi a cui aveva abituato negli ultimi anni l'Ital Service Pesaro è comunque di nuovo lì ovvero dove ci si gioca un trofeo quella Coppa Italia che il Calcio a 5 pesarese ha vinto nelle ultime due edizioni e che questo weekend difenderà da unica marchigiana intrusa in mezzo a tre campane nella nuova formula delle Final Four sabato a Napoli si giocheranno la Coppa Eboli e San Giuseppe nella semifinale delle 18 nell'altra alle 21 l'Ital Service la vedrà con Napoli padrona di casa e prima in classifica in Serie A la finale sarà domenica alle 18 una Kermes che l'Ital Service ha presentato oggi nelle cortile di Ratti Boutique brande la moda e del lusso con 70 anni di storia gli ultimi dei quali trascorsi da fedele sponsor dell'Ital Service giochiamo con la squadra più forte in assoluto prima in classifica una squadra che comunque vanta nel suo roster tanti i nostri ex Borruto, Sala, Sonorio, De Luca quindi una squadra con una forza, una vehemenza pazzesca però come ha detto il nostro mister noi ci proviamo questa è la nostra mentalità una mentalità vincente chiaramente quest'anno al contrario degli altri anni non partiamo da favoriti però è successo anche in Supercoppa che non partivano da favoriti contro l'Olympus Roma tra l'altro abbiamo giocato anche a Roma e abbiamo vinto noi ci proviamo e io personalmente sono ottimista come sono sempre stato e sicuramente faremo qualcosa di positivo Purtroppo sarà una Coppa Italia da affrontare con una squadra mutilata per l'ennesima volta in stagione Dalcin è infortunato da un mese il canale è fuori già da parecchio proverà forse a scaldarsi e a mettersi a disposizione qualche minuto il portiere ha una piccola frattura alla mano l'altro portiere ha il ginocchio quasi da operare e poi lasciatemi e poi c'è un ultimo infortunio quello di Ruanne che l'altro ieri ha preso una botta forte a tutt'oggi non si allena perché ha una contusione al piede quindi è una situazione un anno che abbiamo scelto una rosa ridotta per stare un po' tranquilli perché l'altro anno avevamo i problemi inversi di sovrannumero e quest'anno è così perché noi siamo una squadra che comunque in partita secca possiamo avere delle chance con tutti ma quest'anno la costante è stata dal 15 settembre in poi sempre il 30% minimo in meno di forza lavoro a livello di giocatori quindi noi cercheremo di arrivare con le altre due caratteristiche necessarie cioè con la testa, col cuore, con le gambe a poter dar fastidio al Napoli in una partita secca che sappiamo che può essere temuta da tutti a dare l'imbocca al lupo all'Ital Service anche l'assessora allo sport Mila della Dora assieme a Silvana e Matilde Ratti nell'occasione è stata presentata anche la nuova maglia dell'Ital Service Griffata Ratti che sarà utilizzata nel riscaldamento di Napoli per noi è molto importante creare queste sinergie con le attività della città e devo dire che la squadra di calcio a 5 dell'Ital Service è un'eccellenza per cui per noi è stato molto bello creare questa sinergia e quindi l'abbiamo voluto fare e credo che poi unire lo sport alla moda sia comunque una cosa molto interessante perché comunque lo sport è fatto di giovani e quindi è sempre bello valorizzare anche l'attività dei giovani i nomi come quelli di Ratti allo sport e alla nostra società, alla nostra squadra fanno solo bene perché oltre ad aiutarci da tutti i punti di vista economico ma anche morale ci aiutano anche ad avvicinare altri sponsor altri nomi importanti perché comunque sono nomi attrattivi sono delle calamite in senso positivo perché comunque chi vede il nome di Ratti sulle nostre maglie poi per forza di cosa si vuole avvicinare a noi perché comunque ti dà quell'idea quell'impatto di una società molto seria molto sana, molto solida e quindi può fare solo bene un nome così e quindi ringrazio Matilde e Silvana per aver sposato il progetto Italservice Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma continuate a restare su Rossini TV perché questa sera è in prima serata alle ore 21.20 circa c'è un ospite d'eccezione tanto atteso ci avete scritto, ci avete mandato messaggi potete continuare a farlo commentando in diretta al nostro numero di Whatsapp oppure nella nostra diretta su Facebook perché alle 21.20 appunto avremo Austin Day appena arrivato a Pesaro nella Carpegna Prosciutto Basket lo conosceremo questa sera una puntata dedicata completamente a lui che appunto risponderà alle vostre domande e alle vostre curiosità e poi domande nella nostra rassegna stampa alle 7.20 vi aspetta Daniele in diretta e saremo anche in diretta sulla pagina Facebook e poi domani sera alle 21.20 la prima puntata di Acome Angels questo format dedicato agli Angels Pesaro quindi al football americano che ritorna e lo vedrete appunto in una serie di puntate per scoprire questo nuovo campionato che è partito e poi invece domenica 26 marzo alle ore 16.30 se accendete Rossini TV sul canale 80 potrete vedere in diretta questo importante convegno organizzato dalla Fondazione Francesca Pirozzi con luminari del mondo della medicina e non solo dove si racconterà insomma i risultati e le prospettive del contributo che la Fondazione Francesca Pirozzi ha dato alla ricerca oncologica quindi veramente una scienza che va avanti vi aspettiamo in diretta alle 16.30 e adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni io vi auguro buona serata grazie a tutti grazie a tutti